Salve signor Fernandez, prego, si accomodi pure. Buonas tardi signor Andreata, che gimnase tanto lo tiene? La ringrazio, questa l'abbiamo aperta un mese fa e puntiamo ad aprire altre tre palestre entro fine anno. Vaya, se calo te lo stai bien montada, supongo vedrà molti clienti, no? Sì, beh, sicuramente non ci possiamo lamentare da quel punto di vista. D'altro canto, bisogna ammettere che li trattiamo molto bene i nostri clienti. Ogni palestra è dotata di sauna e a ogni nuovo cliente regaliamo anche un orologio fitness, capace di monitorare la distanza percorsa e anche le calorie bruciate durante l'attività fisica. Lo sé, per questo è venito a presentarle la nostra nuova linea di pulsare di attività e, ademà di un podometro e controllo di calorias, le nostre pulseras incluono anche un monitor di sogno di ultima generazione e sono esistenti all'acqua. Eh, effettivamente i nostri prodotti sono un po' datati, però non so se possiamo permetterci di cambiare l'orologio proprio ora. L'apertura di nuovi centri ci sta costando molti soldi e, forse, non è proprio il momento adatto. Lo entiendo perfettamente. De todas formas, i nostri prodotti non sono molto cari. Il prezzo per un'unità è 34,99€. E puoi elegire il colore di cada reloj. La correa è sempre cambiabile e cada prodotto tiene una garantia di 3 anni. Sembrano prodotti molto buoni e di sicuro non lo metto in dubbio, ma ripeto, non credo che questo sia per noi il momento adatto per fare nuove spese. Con 35€ ne compro 3 di orologi per i nostri clienti. Ok, entiendo. Ecco, facciamo una cosa. Io tengo che volvere a Italia a finali del anno. Se vuoi, posso passare per me qui a noviembre o dicembre. Va bene. Mi sembra un'ottima idea. Mi scusi per la perdita di tempo, ma come ho già detto, è che abbiamo moltissime cose da fare in questo periodo. No, non si preoccupi. Non c'è nessun problema, signora Marietta. Dalla contattare quando si attraversa per l'Italia. Perfetto. La aspetterò in novembre o dicembre allora. Grazie e adios. Che valla bene.